E' importante ricordare che l'utero non è recettivo in qualsiasi momento del ciclo e che esiste un periodo concreto denominato finestra d'impianto durante il quale deve avvenire il trasferimento dell'embrione per cui è necessaria una preparazione previa. L'endometrio ricordiamolo è uno strato uterino in cui l'embrione deve annidare e questa preparazione endometriale può avvenire in diversi modi. Sul ciclo naturale infatti molte donne a volte hanno dei cicli normali conservati con una buona funzione ovarica e quindi è l'ovaio stesso che si occupa di preparare in modo naturale l'endometrio. Altre volte invece si richiede un trattamento di sostegno, un trattamento che possa promuovere innanzitutto lo sviluppo dell'utero, la crescita dell'endometrio e poi l'abbinamento con un secondo farmaco chiamato progesterone per aprire questa denominata finestra d'impianto che ci aiuterà a sincronizzare il momento della raccolta e coltura dell'embrione con il momento del trasferimento nell'utero materno.